La Teramo Ambiente assume 14 nuove figure professionali per contribuire al miglioramento della raccolta differenziata porta a porta. Servono figure specializzate, spiega il presidente Sergio Saccomandi, ma è importante anche l'imminente rinnovo dei mezzi a disposizione dell'azienda per lo spazzamento e la raccolta rifiuti. Noi stiamo cercando in tutti i modi di ammodernare quello che è il nostro parco mezzi. C'è uno studio, abbiamo già fatto e faremo anche altro. Quindi il lavoro che stiamo facendo è duplice, ammodernare il nostro parco mezzi e riuscire ad avere più forza lavoro. Più forza lavoro perché innanzitutto è una necessità dettata dai pensionamenti che stiamo avendo. Se vogliamo mantenere il 72% di differenziata dobbiamo comunque avere più operatori sul territorio. Non parlo di attività amministrative, ma parlo di gente che sia sulla strada e con i cittadini. Solo stando a contatto, informandoli, cercando di far capire il lavoro che viene fatto, riusciremo ad evitare i famosi bustoni neri. C'è un altro argomento molto importante che coinvolge la terramoambiente, ovvero la realizzazione del forno crematorio. Se ne impara da tanti anni, ma finora non riesce ancora a vedere la luce. Sì, anche qui abbiamo avviato delle ricerche perché noi siamo una società in house e in atti una manifestazione di interesse per avere un partner che ci permetta di poter contare su mezzi finanziari appropriati. I nostri progetti sono stati aggiornati al 2021, quindi nel momento in cui avremo qualcuno che ci supporta finanziariamente, sicuramente potremo darvi delle date molto più certe.